E' durata poche ore, anche a causa del caldo che hanno tolto loro le forze, la fuga dei due vasi nella giornata di ieri dal carcere di Pescara. A catturarli sono stati gli agenti della volante e della mobile che sin da subito avevano avviato le ricerche con diverse pattuglie, oltre che all'ausilio di un elicottero. I due detenuti di nazionalità romena di 22 e 25 anni si erano nascosti poco distante dalla casa circondariale. E' stata una zona sempre presidiata, tant'è che loro non si sono mossi da un canneto, poi abbiamo capito che era un canneto lì alle spalle della casa circondariale, per tutto il tempo. Nel momento in cui hanno alzato la testa, perché probabilmente anche estremati dal caldo per abbeverarsi e cercare di focillarsi lì vicino, sono stati notati da un residente, ci ha chiamati, costantemente al telefono con noi siamo arrivati e una breve fuga appiedata, con scavalcamento di cancelli di varie abitazioni, fino poi a essere inchiodati lì in una traversa di via San Donato. Ancora una volta è stata fondamentale la collaborazione con la cittadinanza. E' una cosa che io personalmente ripeto sempre, la collaborazione tra tutti coloro che si trovano su un determinato territorio, siano civili, siano militari, siano forze di polizia, è fondamentale, perché da soli poco possiamo fare, ma forse con il contributo di tutti riusciamo dove il singolo non può. Si tratta della terza evasione nel giro di poco meno di un mese e mezzo dal carcere San Donato. Lo scorso 11 luglio un detenuto egiziano, 21enne, era evasso ed era stato poi rintracciato e arrestato otto giorni dopo.